benvenuti sul mio canale tutto dal web io sono angela e come sempre pronta per voi per darvi le anticipazioni della puntata registrata ieri a uomini e donne del 16 aprile questo ve lo dico grazie sempre a lorenzo pugnaloni.it ida colpo di scena non si è presentata in studio a uomini e donne è successo di tutto e sembra che ormai il throne over sia giunto al termine dopo l'ultima registrazione senza ida come possiamo leggere dalle anticipazioni esasperata dalla condizione generale dei suoi due corteggiatori pierpaolo e mario ida ha scelto di non presentarsi in studio e quindi di non essere presente per la registrazione del giorno ida parole di mariette filippino si è presentata in studio perché non crede più né a mario e né a pierpaolo la situazione si è fatta sicuramente molto tesa dopo le tantissime segnalazioni ricevute soprattutto per quanto riguarda mario la puntata è iniziata con una spiegazione delle precedenti quindi quando ida è andata in camerino da mario per chiarire la situazione dopo l'ennesima segnalazione a suo carico la donna ha chiesto al corteggiatore il nome e cognome della ragazza che era con lui nel b&b e lui si è rifiutato di darglielo chiedendolo di credergli mario è stato categorico in sostanza detto ad ida o mi credi o mi mandi via per sempre ida quindi non si è presentata in puntata nelle registrazioni mandata in studio si vede la tronista spiegare le sue ragioni ovvero che non si fida più dei due uomini e che non gli crede affatto a quel punto senza ida i due sono stati costretti a lasciare il trono e sono usciti dallo studio al momento ragazzi non si sa cosa potrebbe accadere ma già in un'altra puntata ida aveva detto di voler lasciare il programma e di volersi allontanare ormai stufa di tutta la situazione grazie grazie grazie